Grazie a tutti per aver guardato la biblioteca, la biblioteca è in fondo per la via del gabinetto holandese per uscire il contenuto di biblioteca. Abbiamo avuto una conversazione con il gruppo di Treball, abbiamo ascoltato anche di un progetto ledger per uscire un plan per migliorare il territorio di biblioteca, non solo i booki, ma anche per uscire una biblioteca completamente nuova per uscire il sentimento che una biblioteca non necessita solamente per uscire una bellezza, ma anche per uscire una biblioteca con la nostra cultura, anche per uscire una biblioteca di un'area con la nostra cultura, con il palo, con la nostra isla, con una biblioteca criollo di noi, ma anche per uscire un uso di facilità innovativo di una biblioteca. La nostra propria è di finanziare una biblioteca inolso Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.